Tra le caselle principali del nuovo bari targato Polito Mignani c'è quella del trequartista, il numero 10, in grado di dettare l'ultimo passaggio, inserirsi tra le linee, assicurare qualità e qualche gol. Così, in attesa di avviare ufficialmente la stagione, con il raduno del 15 luglio in città e il ritiro di Storo tre giorni dopo, in casa Biancorossa sono in corso due tipi di casting. Il primo riguarda le idee in entrata, tre sono i nomi sin cui sono dati dal DS Biancorosso, tutti discretamente esperti, il trentenne Andrea Schenetti, ultimo biegno alla Virtus Entella con quattro gol e tre assist nell'ultima stagione, quella della retrocessione dalla BLC, guida una lista completata dal trentunenne argentino Ruben Botta, 8 gol e 7 assist in 24 partite nello scorso campionato alla San Benedettese e seguito anche da Alessandri e un paio di club in B e Francesco Bombaggi, trentunenne, a segno 17 volte negli ultimi due campionati con il Teramo e in rete ben tre volte con la maglia abruzzese contro il Bari nella stagione 2020-21. Occhio però anche alle risorse già a disposizione, quelle che Mignani potrebbe valutare o rivalutare a partire proprio dal ritiro di Storo. Rientrano dai prestiti a Como e Fermo Giovanni Terrani e Samuele Neglia. Il primo, in riva all'Agua, ha messo la firma sulla promozione in B con tre golle e sei assist, giocandosi in fascia che alle spalle delle punte e guadagnandosi le attenzioni di diversi club. Il secondo, 11 reti e due passaggi vincenti con la fermana, ha più le caratteristiche da guastatore che Mignani chiede in fase di non possesso nel 4-3-1-2, con il trequartista che si alza sui centrali di difesa avversari e gli attaccanti che si allargano in pressione sui terzini. Sulla trequarti potrebbe svilupparsi anche una nuova fase di carriera per Mirko Antenucci, sul quale il Bari fonderà le basi, parola del DS Polito, per la stagione che verrà dopo le 38 reti nel primo biennio in bianco-rosso. Chi invece ha avuto nella scorsa stagione la 10 sulle spalle è stato Manuel Marras. Esterno offensivo per origini ha totalizzato 9 gol e 6 assist alla prima annata in bianco-rosso. Potrebbe riciclarsi tra le linee, le qualità non mancano. Discorso che vale in prospettiva anche per Giovanni Mercurio, 18 anni ad agosto. Per lui è pronto un contratto triennale dopo le sei presenze con gol della scorsa stagione. Dal più giovane al più esperto, il 38enne Valerio Di Cesare, per ora non c'è nessuna traccia dell'offerta di rinnovo per il capitano bianco-rosso che dal primo luglio sarà libero da vincoli. La proposta arriverà, ma non prima del prossimo weekend.